questo è un progetto che certamente le rafforza le difese immunitarie sociali in quel territorio è un progetto di riqualificazione urbana ma al tempo stesso di rigenerazione umana che mette lo sport al centro dell'attenzione non soltanto per i giovani e consente allo sport di svolgere la sua funzione al punto sociale di aggregazione e di contribuzione al superamento del disagio sociale che indubbiamente lì emerge in modo plastico questa è una tappa di un percorso soprattutto la cosa importante che oggi non c'è una fotografia ma c'è un fotogramma di un film progettuale che il governo e anche le istituzioni del territorio stanno sviluppando di concerto in armonia perché c'è il bene comune davanti a tutto